La rassegna stampa della Gazzetta del Mezzogiorno. Mesagne festeggia Carlo, il suo campione d'oro, una incredibile manifestazione di piazza alla quale ha partecipato l'intera cittadina e non solo una serata da incorniciare, quella dei festeggiamenti per Carlo. La festa patronale crea la protesta dei commercianti. I commercianti di Corso Garibaldi si lamentano. Nel centro arriveranno migliaia di persone e tantissimi ambulanti. Occorrerà garantire l'igiene pubblica. Noi centro in campo a difesa del presidente Paolo Urso replica le accuse di Cosimo Ferretti del PDL. A settembre la revisione di bilancio non comporterà gravi per le tasche dei cittadini brindisini. Spiagge affollate nonostante la crisi. Primo bilancio a stagione quasi terminata e rispetto agli anni precedenti i turisti hanno modificato le loro abitudini limitando i periodi di vacanza. Un'anziana e un bambino investiti da un'automobile è accaduto a pezze di greco. Apollonia Albanese di 79 anni è stata investita nel centro abitato mentre attraversava la strada con un bimbo di 8 anni. è stata trasferita al Perrino. Strangolò una dentista arrestato dai carabinieri. Bloccato dai carabinieri di Brindisi un uomo di nazionalità greca che strangolò una dentista pare per una rapina. Rapina Martina Franca arrestati due brindisini malviventi in azione spuma il colpo in gioielleria. I banditi sono stati fermati da due donne. Un complice è riuscito a fuggire. La rassegna stampa del nuovo quotidiano di Puglia rapina due presi uno fugge finisce male la spedizione a Martina per una banda di brindisini nel mirino una gioielleria due arresti e un terzo bandito in fuga poteva finire in tragedia per le vittime è finita fortunatamente indisfatta per la banda. Uccisa per il cellulare scoperto e arrestato i carabinieri ammanettano il responsabile della morte di una dentista strangolata in Grecia durante una rapina mandato di cattura internazionale per un camionista residente a Brindisi ma di origine greca. Stop ai raddoppi strisce blu i tagli che non ti aspetti dietro fronte in comune stop al raddoppio dell'abbonamento per il porcheggio dei residenti in centro il sindaco Mimmo Consales ha avviato le procedure per la revoca di quanto disposto in precedenza dal commissario prefettizio Bruno Pezzuto. Senza lavoro tenta il suicidio disoccupato e disperato salvato con il cappio al collo disperato per essere da tempo senza lavoro tenta il suicidio ma i carabinieri lo fermano in tempo è successo a Ceglie Messapica ieri pomeriggio fisco beffa da 12 milioni l'azienda in cassa denunce l'azienda a modello nasconde 12 milioni al fisco la società dell'ortofrutta dal 2007 al 2010 non ha dichiarato il 40% dei ricavi 4 i denunciati operai come fantasmi l'80% irregolare sfruttati, malpagati e in nero 80% di irregolari nei cantieri su 123 operai solo 22 con contratto a norma agghiacciante report del Ministero del Lavoro esercito di dipendenti fuori legge nell'edilizia, ristoranti e bar per illustrazione costante anche dello specchio di mare numerosi controlli, soccorsi a lieto fine nelle ultime settimane Manzari promuove il Brindisi il direttore sportivo del Brindisi Calcio Giovanni Manzari traccia un primo bilancio positivo della campagna acquisti in vista della prossima stagione di Serie D la rassegna a stampa di senza colonne stabilimenti balneari brindisini quasi tutti aperti senza avere l'agibilità sprovvisti del certificato del comune anche i lidi di vigili del fuoco carabinieri e polizia ma sono tantissimi i lidi sulla litoranea nella stessa situazione stuprata da due amici una 25enne brindisina presenta denuncia in questura in serata sottoposta a controllo ginecologico al Perrino LS queste le sue iniziali ha raccontato di essere stata violentata nella notte tra lunedì e martedì col tumore al cervello ma intervento rinviato per 10 giorni odissea al Perrino per un pensionato di 69 anni alla fine è intervenuta la direzione e in rianimazione spunta il letto bimbo investito sulle strisce dramma sfiorato ieri in via Appia la donna al volante non si è nemmeno fermata per soccorrerlo la vittima è stata trasportata in ospedale con una ferita al braccio azienda evade 12 milioni di euro avevano messo in piedi una contabilità parallela lontana da occhi indiscreti 4 i denunciati l'azienda fasanese ha evaso 12 milioni di euro grazie 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 grazie